Fabbrica della comunicazione. Iscriviti al canale YouTube e segui tutte le interviste sul sito, anche su Telegram, ed in podcast su Spotify. Fabbrica della comunicazione. Il nostro cammino è iniziato così da Omero e quindi i segreti di Omero nel Baltico che rovescia completamente tutto quello che è la portata, la conoscenza. E questo è il libro che lo testimonia. Tutto quello che è la portata, dicevo, la conoscenza che noi abbiamo dai tempi della scuola, no, ingegnere? Perché quando lei ci ha rivelato che in realtà nulla di tutto quello che abbiamo capito, appreso, tutte queste incredibili vicende, non ha nulla a che fare col Mediterraneo, ma si sono svolti questi fatti da tutt'altra parte, beh, certamente questo è stato importante come scossone. Allora uno potrebbe dire, va bene, ma insomma, l'ingegnere è un ricercatore come tanti, no, affronta e sicuramente porta la sua tesi. Qual è la differenza rispetto agli altri? L'ingegnere Vinci ha avuto invece il plauso di tanti accademici, a partire molti anni fa dalla dottoressa Calzecchionesti, marchigiana, che accreditò questa pubblicazione con una prefazione, fino ad arrivare all'ultimo, cioè Latiner, che appunto è questo istituto greco che pure conferisce, diciamo così, un accreditamento ai suoi studi, no, ingegnere? Come la fa sentire questa cosa? Questo mi fa molto piacere, prima di tutto un commosso ricordo alla cara Rosa Calzecchionesti, che mi è stata vicino e mi ha incoraggiato sin dall'inizio a procedere su questa strada. Per me è stata veramente un faro e una serie di consigli che mi ha dato, per me sono stati importantissimi. Dopodiché in effetti il mio lavoro ha avuto molti riconoscimenti, per esempio il professor William Mullen del Bard College di New York l'ha fatto accreditare presso il Bard College, presso il corso di studi superiori di Omero qualche anno fa, e non solo, addirittura lui stesso con alcuni suoi allievi su una barca a vela, però prudentemente dotata di motore ausiliario e di GPS, si è fatto il giro del Baltico proprio per accreditare ciò che io dicevo. Poi c'è stato anche il fatto che l'Università di Roma ha fatto un importante convegno dedicato a questo argomento, i cui atti sono anche usciti, un librone monografico sull'argomento della rivista di cultura classica e medievale, veneranda rivista di filologia classica, e a parte quello tanti articoli su riviste scientifiche. Ah, lo stesso Atiner qualche anno fa organizzò un convegno ad Atene sull'argomento, e adesso mi ha pubblicato un articolo di cui parleremo dopo, proprio recentemente, un articolo mio del professor Arduino Maiuri, in cui addirittura, basandosi su una serie di dati oggettivi che si ritrovano sia nella letteratura greca e sia anche nella geografia di certe isole, addirittura si riescono a localizzare i mitici campi Elisi e le isole dei Beati in Polinesia e precisamente in una delle isole Hawaii addirittura. Tutto questo però documentato, e infatti questa recente uscita di questo articolo attesta in effetti un articolo peer-reviewed, devo dire, cioè riveduto da professori che mi hanno dato l'accreditamento per questa ipotesi su cui chiaramente poi bisognerà continuare a lavorare e a approfondirla, però la base è quella, le isole Hawaii erano appunto il mondo di Radamanto e delle sue mitiche isole dei Beati e dei campi Elisi. Bene, e allora naturalmente, poi lo diciamo anche che naturalmente il professor Vinci non si è fermato qui, è andato avanti e ha anche, diciamo così, dato un po' una visione globale a quello che è la Terra, il mondo, il nostro pianeta, molti, molti secoli prima rispetto a quello che è la nostra venuta. Quindi con il mistero della civiltà megalitica sostanzialmente c'è una lettura comune, quindi tanti posti, anche in questo caso, sono stati visitati dagli antichi contemporaneamente o comunque si rintracciano stesse peculiarità in tanti posti. voglio dirlo così per tutti coloro che ci stanno seguendo che naturalmente queste interviste sono già presenti sul canale, quindi insomma basterà cercare l'ingegner Vinci per trovare queste e moltissime altre cose perché poi abbiamo indagato anche il personaggio di Ulisse sottintendendo che Ulisse non era Ulisse, quindi insomma anche qui c'è questo mistero ma chi è, chi era costui e che fine aveva fatto Ulisse, quindi vi rimando a questi video perché sono tra l'altro molto interessanti. Ritornando invece a quello che è proprio il libro in sé e che appunto è stata una grande svolta, come si procede? Arrivati diciamo così a capire che i misteri sono quelli del Baltico e non quelli del Mediterraneo, arrivati a questo punto, come si va avanti in questa storia ingegnere? Si va avanti perché si cerca sempre di fare nuove correlazioni collegando tra loro appunto il mondo di Omero che è della prima età del bronzo nordica, perciò relativamente più recente di quello che invece è il mondo della civiltà megalitica che è molto più antico, ma per esempio, faccio un piccolo esempio, secondo Omero sullo scudo di Agamennone, il capo degli Achei che combatterono contro i Troiani, c'era effigiata un'immagine terribile della Gorgone Medusa, quella che pietrificava coloro che osavano guardarla, il che indica che il discorso della Gorgone Medusa è di Perseo che la decapitò, sappiamo che ci sono state delle bellissime statue, tra cui una famosissima a Firenze, sull'argomento, è un argomento molto battuto dalla mitologia e dagli artisti soprattutto, bene, questo mondo era già per Agamennone e coloro che erano contemporanei a questa guerra di Troia che era precedente alla discesa degli Achei nel Mediterraneo, per Costoro era già mitologia, era già un mondo antico, mitico che praticamente per loro rappresentava un mondo perduto di migliaia di anni prima rispetto a loro, per cui abbiamo già un senso di prospettiva storica e non voglio dimenticare il fatto che con il discorso di mettere il mondo omerico nel nord Europa risolviamo contemporaneamente un problema geografico, perché il mondo di Omero è sempre stato considerato un rebus dal punto di vista della collocazione geografica, perché non torna nulla, le precisissime descrizioni per esempio dell'arcipelago di Itaca, del mondo di Troia, di tutto il mondo di Omero che viene descritto precisamente nel catalogo delle navi dell'Iliade, non ha niente o quasi a che vedere col mondo greco, si trovano solo i nomi delle località, perché gli Achei come molti migranti hanno poi rimesso i nomi delle loro antiche città e le hanno ricollocate in Grecia, ma prima della Grecia stavano in un altro posto, cioè nel nord dell'Europa. E poi d'altra parte oltre al discorso geografico c'è un discorso storico, perché finora nessuno studioso è mai riuscito ad inquadrare la guerra di Troia nel mondo della storia, della cronologia, non si sapeva se era un mondo venuto dopo la civiltà micenea, che è la prima civiltà apparsa in Grecia di parlanti greco, o forse era prima o quando. Naturalmente tutto fa pensare che il mondo omerico è il mondo precedente all'arrivo dei micenei in Grecia, i quali erano degli Achei venuti dal nord, i cui antenati avevano combattuto a Troia nel nord Europa e poi si sono spostati per una crisi climatica probabilmente in Grecia, ribattezzando tutte le località con i nomi della patria perduta nordica, per cui Atene, Tebbe, Micene, sono non solo i prototipi, sono dei nomi di località che sono state ribattezzate così e poi se ne vuole ne possiamo anche parlare, posso anche portarne le prove di tutto questo. Certo, parliamo subito, cerchiamo di capire. Certo, allora Atene, Tebbe e Micene hanno la caratteristica di essere dei nomi al plurale, Atenai, Athens in inglese con la S finale che indica il plurale, Tebbe, Micene, idem, ma nulla spiega perché in Grecia dovessero essere al plurale, se non il fatto, come ho detto io, che avevano delle prototipe i cui nomi erano al plurale che si trovavano da un'altra parte. Ma perché i nomi erano al plurale? Facciamo il caso allora di una città col nome al plurale, una città greca però in Sicilia, che in effetti in latino e in greco ha il nome al plurale, Siracuse, Siracusarum, per quelli che hanno fatto il liceo classico. Perché al plurale? Perché davanti a Siracusa, che sta sulla terraferma, c'è l'isola Ortigia, su cui c'è una parte della città, perciò la città è divisa tuttora e a cavallo tra la terraferma e l'isola e sono le due Siracuse praticamente. Invece Atene, Tebbe e Micene nel mondo greco hanno il nome al plurale ma solo una memoria di un qualcosa che c'era prima. Infatti, secondo tutto lo studio che ho fatto nei segreti di Omero nel Baltico, ripeto, studi accademici che poi sono finiti su riviste specialistiche, come appunto gli atti dell'Università di Roma e poi dell'Atiner, quando poi nel 2017 ho fatto un incontro presso di loro, da tutti questi studi risulta che Atene si trovava, era una città originaria svedese che si trovava vicino all'attuale città svedese di Karlskrona, una città moderna del Settecento, che però sta tutta su delle isole, infatti, e di questa cosa c'è una cosa particolare, perché Platone ci dice che l'Atene dei suoi antenati era tutta diversa dall'Atene dove viveva lui e dove noi sappiamo che viveva, l'Atene greca, era tutta diversa. Perché? Perché in realtà l'Atene dei suoi antenati, lui essendo di una nobile famiglia aveva delle memorie storiche di come fosse fatta, però si era persa, e anche qui si può spiegare il perché, la continuità storica non si sapeva più che l'Atene di Platone non era più l'Atene preistorica quella di Omero. Ecco, e Platone ce lo dice che era tutta diversa, e questa è l'Atene. Invece Tebbe, c'è attualmente l'attuale Tebi vicino Stoccolma, e in effetti sta vicino Stoccolma che sta su delle isole, tutta zona su isole, ma non è solo Tebi, vicino Tebi ci sono altri località svedesi che corrispondono perfettamente a ciò che viene detto da Omero, che si trova nell'attuale geografia della Svezia, ad esempio Tireso è una località dove i svedesi vanno a fare il bagno, e il Tebano Tiresia era un famoso, ecco, ma non è solo, ci sono anche altre cose, ecco, e quanto a Micene, e questa me l'ha svelato il mio amico Finn Madsen, traduttore di Omero nel Baltico in danese, adesso ne sta facendo una nuova edizione aggiornata, il quale mi ha fatto capire che, l'ha scoperto lui, che secondo appunto la scansione del catalogo delle navi dell'Iliade, che è una specie di lista di nomi di località, di località degli alleati, degli Achei che andarono a combattere i troiani, della Nato di allora la potremmo chiamare, no? Ed è una lista geografica, seguendo la scansione, così come noi localizziamo Tebbe e Atene, così Micene corrisponde perfettamente a Copenaghen, che in effetti sta su un'isola su cui sono stati trovati i resti preistorici, ma di tutte queste novità, tra l'altro, nei segreti di Omero nel Baltico troverete tutta una serie di aggiornamenti che non stavano in libri precedenti, per cui per esempio sempre in Svezia ho trovato una specie di prova provata, ma ce ne sono tante altre, migliaia, una di queste nuove è quella di, Omero dice che c'erano due città che si possono, seguendo il catalogo delle navi, collegare proprio col mondo svedese, presso i Locresi di allora, che si chiamavano Tarfe e Tronio, sulle rive del Boagrio, cosa fosse questo Boagrio nessun lo sa, vuol dire il lago, il fiume del bue o della mucca selvaggio o selvaggia, bene, esiste un lago proprio nella zona corrispondente a quella dei Locresi, nella Svezia meridionale, e dove per varie ragioni proprio si vede la corrispondenza, perché il catalogo delle lami dell'Iliade è veramente un trattato di geografia, dove si trovano due paesi vicini, Torpa e Tranas, Tarfe e Tronio, i nomi sono rimasti quasi invariati, sono a 10 km l'uno dall'altro, su questo lago che adesso si chiama lago Sommen in Svezia, la cosa ha interessato molto gli svedesi, e dove c'è un'antichissima leggenda, dove si parla di una mucca selvaggia che riuscì, tra le altre cose, ci sono anche altre corrispondenze, che riuscì comunque a scavare quel famoso lago in tempi antichissimi, per cui c'è anche il nome del Boagrio che si trova in Omero, ci dà la patente che i due toponimi, che già sarebbe stato un caso incredibile se fossero stati veramente vicini, come dice Omero, e come si trovano lì su quel lago, quello era veramente il lago Sommen, il Boagrio, il lago scavato dalla mucca selvaggia, che poi probabilmente non era altro, si riferisce probabilmente a un mito cosmogonico relativo alla costellazione del Toro, ma questo è un altro discorso ancora. Comunque la cosa è stata piaciuta molto, infatti adesso sta in un sito svedese pubblicato recentemente. Beh, comunque ingegnere, lei si arrivava di successo in successo accademico, io sono veramente molto contenta di questa cosa, qui siamo per parlare un po' più se vogliamo di amenità, per esempio di fiori, visto che lo facciamo vedere, c'è questo fiore meraviglioso che ci riporta però a un tempo a livello proprio climatico decisamente diverso da quello che è nel Baltico. Che cos'è questo fiore? Ecco, il fiore si riferisce alla, direi, prova provata del fatto che appunto i mitici campi Elisi, dove gli eroi antichi andavano a trovare la loro pace, un luogo meraviglioso, bellissimo, però descritto da Omero in maniera molto precisa, perché dice che c'era un vento fresco, rinfrescante che rendeva tutto molto bello, non c'erano tempeste, c'era un clima meraviglioso. Bene, questi mitici campi Elisi per una serie di ragioni che hanno indotto appunto l'Atens Journal of Mediterranean Studies a pubblicare questo articolo, i mitici campi Elisi stavano nell'isola Hawaii, la più grande delle Hawaii, dove tutto coincide, c'è il vento fresco che, cosa quasi unica nel mondo tropicale, soffia per quasi tutto l'anno, portando pioggia, ed è questa la ragione per cui Omero la chiama lo zefiro, lo zefiro era apportatore di pioggia in Omero e in effetti questo vento fresco delle Hawaii porta pioggia, soprattutto d'estate, e rende il clima delle Hawaii, anche quando dovrebbe fare un caldo eccessivo, abbastanza mite. Ma non solo, ci sono tutta una serie di ragioni per cui in Polinesia abbiamo l'idea che ci fossero stati dei colonizzatori provenienti da un mondo che poi è quello nostro, quello che noi immaginiamo, dal vecchio mondo. Infatti i primi esploratori della Polinesia, come dice il professor Francesco Surdic, che è stato preside dalla facoltà di lettere dell'Università di Genova e anche professore ordinario di navigazione, di storia della navigazione, attesta nei suoi libri che prima un ammiraglio portoghese che era al servizio con una flotta spagnola, alla fine del Cinquecento, quando approdò in una di quelle isole della Polinesia, trovò tanti uomini bianchi, biondi, alti, indistinguibili dagli europei. Dopo un altro grande esploratore, questa volta francese, il de Bougainville, ben noto per altre ragioni, perché lui dai tropici importò la famosa pianta a cui viene dato il suo nome, attesta anche lui che a Tahiti, quando lui sbarcò, c'erano uomini alti, alti più di un metro e ottanta, diciamo una cosa, non erano tutti così, ce n'erano una parte di costoro, erano alti, bianchi ed erano così belli, dice lui, che potevano fare da modelli per gli antichi dei greci, indistinguibili dagli europei. Però se uno va a vedere a Tahiti, scopre che la danza tipica di Tahiti si chiama Chori Tahiti, la danza di Tahiti. Chori non è altro quel greco Chorus, che vuol dire danza. E se io vi dicessi che i canti tradizionali che le ragazze cantano, intonano in queste occasioni, e poi vi dirò queste occasioni a cosa somigliano, questi canti tradizionali si chiamano mele, non è altro che il melos. Se voi prendete il vocabolario Rocci, gioia e tormento di tutti gli studenti del ginnasio, tra cui il sottoscritto, scoprirete che il significato di melos in greco, i vari significati, sono identici ai vari significati di mele in polinesiano. Potrei fare tantissimi altri casi. Vi posso però dire che il dio Crono, che secondo Omero venne esiliato ai confini del mondo, è l'attuale dio importante della Polinesia, chiamato Rono. Si è perso la C, ma se voi andate in dialetto siciliano vedrete che il grande diventa Ranni e si perde anche lì la gutturale iniziale. Ma non è solo questo ancora, perché abbiamo tutta una costellazione di correlazioni. Per esempio i polinesiani nella loro terra bagnano le piste in discesa e praticamente ci vanno su con gli slittini, si chiama Holwa, gli slittini in Polinesia. Perché? Perché i loro antenati venivano dalle terre dell'estremo nord di quando ancora gli antenati degli Akei si trovavano nel nord e una volta arrivati lì hanno continuato a fare i loro sport di tipo sport invernali. Naturalmente in Polinesia lo Holwa è una cosa stranissima che si trova lì. A questo punto allora voi mi direte, ma allora il famoso Radamanto che stava lì, che stava nei campi Elisi? Ecco, questo lo dice Omero. Allora lì c'era il dio Crono e c'era Radamanto. C'era il vento fresco che è tipico delle isole Hawaii e c'era, dice Pindaro, il vecchio Pindaro, dice che in questo mondo di Crono e di Radamanto c'erano bellissimi alberi che portano fiori d'oro. E cosa sono i fiori d'oro? È il fiore di stato delle Hawaii, l'ibisco giallo avaiano, che è un fiore meraviglioso, ha un diametro di un ibisco, però è giallo, è una cosa tipica del mondo avaiano, che però ha un diametro di 10 o 15 centimetri, cresce su arbusti anche alti diversi metri, ecco gli alberi meravigliosi, e quello è il fiore di stato, nominato fiore di stato dell'isola Hawaii nel 1988. Viene chiamato in termini botanici Ibiscus Brachengiringei e io ho proposto in questo articolo che mi hanno pubblicato di Latence Journal di chiamarlo Ibiscus Brachengiringei Radamanti, per ricordare il vecchio Radamanto che, sempre in Pindaro, subito dopo, Pindaro ci dice che insegnava alla gente di lì a intrecciare le mani con Ghirlande e Corone, praticamente era un maestro di danze, di danze avagliane di un'epoca preistorica, sicuramente età megalitica, adesso vi dirò il perché, precedente addirittura al mondo degli Achaei, infatti Radamanto è considerato un mondo antichissimo che viene citato nell'Odissea dai Feaci, che probabilmente erano i tredumioni grandi navigatori dell'Odissea, che viaggiavano e come? Appunto in epoca preistorica, precedente agli antichi greci che poi si trasferirono nel Mediterraneo, tra il sesto e il terzo millennio avanti Cristo faceva più caldo di adesso, il mare artico era scongelato, si poteva navigare d'estate, se vi prendete un mappamondo vedrete che una civiltà globale come quella megalitica che si è trovata in tutti i continenti, antichissima, questa antica civiltà globale usufruiva del fatto, ed era un grosso vantaggio rispetto agli spagnoli, poi ricordo Carlo V che nel XVI secolo diceva che sulla Spagna non tramonta mai il sole sui domini spagnoli e poi gli inglesi, francesi, sempre prima dell'era industriale, cioè prima che nascessero locomotive, telefonini, cellulari e magari anche Skype, molto prima, più o meno in un periodo in cui non c'era una grande differenza rispetto a quella che potrebbe essere una civiltà marinara, questa civiltà marinara che poi è stata ricordata da Platone con il mito di Atlantide che dominava su tutti i mari, la mitica Atlantide poi scomparsa, questa civiltà marinara ha messo lo zampino in tutto il mondo e aveva la possibilità, proprio perché l'oceano artico era scongelato, di fare la rotta polare, mentre gli inglesi e gli spagnoli per andare dall'Atlantico al Pacifico dovevano sobbarcarsi, si può ben dire, un lunghissimo viaggio pericolosissimo dovendo doppiare Capo Horn all'estremità meridionale dell'America, questi fortunati individui di qualche migliaio di anni prima passavano sopra il Canada dall'Atlantico al Pacifico, un Canada che era molto più caldo di adesso perché faceva più caldo e dopodiché arrivavano allo stretto di Bering e lì c'era il Passat, l'Aliseo che gli soffiava nella direzione proprio delle Hawaii e infatti non è un caso che nel mondo polinesiano gli studiosi con grande sorpresa, se ne parla anche nella Treccani, da un lato si trova un mito di un eroe navigatore chiamato Longa Poa che è Ulisse, le sue avventure sono simili sia quelle di Ulisse che di Simba del Marinaio che è un altro aspetto praticamente di potremmo dire indoeuropeo legato all'Iran e alle mille una notte persiane e con Ulisse condivide tante cose, praticamente è identico al punto che si parla del grande gorgo dietro l'orizzonte che è Cariddi che però non può essere ambientato in Polinesia dove quei gorghi non ci sono, i gorghi di quel tipo sono nei fiordi norvegesi, cioè dove venivano i greci, ma non solo, è stato scoperto in tempi anche molto diciamo due secoli fa, è stato scoperto che ci sono dei miti che una dea chiamata Ina, la grande dea marina dei Polinesiani che tra l'altro è identica Ino, Ino era la dea che davanti alla terra dei Feaci aiuta Ulisse a sopravvivere e a non morire affogato durante la tempesta, Ina e Ino sono la stessa cosa, non è solo il nome, le loro attribuzioni sono le stesse, Ina e Ino appaiono sotto forma di uccello e hanno vari aspetti che corrispondono. Bene, questa Ina in una delle sue avventure è una ragazza che si sposa con un re e arriva un principe figlio di un altro re che si innamora di lei, la rapisce, fanno una lunga guerra perché quel re non ci stava a farsi portare via la moglie e alla fine dopo una guerra lunghissima in cui gli attaccanti arrivano diciamo ad assediare la città dove c'era la povera Ina Elena e arriva a assediare quella città, alla fine arrivano con 1200 canoe, guardate, è identico e dopo 18 anni quella regina torna a casa. Ora, se voi guardate l'Odissea, vedete che Menelao e Elena ritornano a Sparta nell'ottavo anno dopo la fine della guerra, perciò 18 anni di qua, 18 anni di là, per cui evidentemente avevamo una distribuzione globale, forse dovuta ai feaci nel caso del mondo omerico, ai mitici cosiddetti feaci, una distribuzione globale di miti oltre che di racconti, leggende, megaliti, folclore, tutto e troviamo anche il vecchio Radamanto che ancora sta lì a insegnare le danze polinesiane alle ragazze del posto. Però, ingegnere, se mi consente, io ritengo che sia assolutamente fondamentale portare questo tipo di cultura, di comunicazione, di informazione a chi è a scuola, riportare questa conoscenza direttamente nelle scuole, direttamente alla fonte, direttamente nei luoghi dove si cerca di fare cultura, quindi come dicevamo prima, a livello accademico, fortunatamente insomma c'è qualcuno che si rende conto di questa importanza e mi auguro anche che queste cose possano poi avere un seguito, no? Anch'io me lo auguro e da molti anni. Il vero problema è che qui il mainstream ci insegna tutta un'altra, come la chiamano adesso, narrazione. I nostri antenati erano dei poveri scemi, figuriamoci se potevano costruire delle navi in grado di arrivare in Polinesia, quando invece la navigazione oceanica è anche più facile di quella lungo, in certi mari chiusi, perché ci sono varie, d'altronde i polinesiani scorrazzavano lungo tutte le isole della Polinesia in una maniera straordinaria, però secondo il mainstream noi saremmo più evoluti e a questo punto essendo più evoluti siamo più intelligenti, che dobbiamo fare? Lasciamo quei poveretti a cibarci di bacche e di radici e noi invece siamo tanto bravi. E invece per esempio c'è la storia di un ammiraglio fenicio chiamato Annone, il quale nel VII secolo a.C. avrebbe fatto la circunnavigazione dell'intera Africa con una flotta di 60 navi, altro che le tre caravelle di Colombo, che è un puro miracolo, lui con 39 Galeotti è riuscito ad andare dall'altra parte e poi ancora più straordinariamente a tornare indietro. Per cui voglio dire, purtroppo c'è una mentalità corrente, con cui anche con degli amici mi sono scontrato perché quando gli dico di Radamanto alle Hawaii mi guardano con aria un po' come dire preoccupata, adesso però sono tutti molto contenti di aver visto che ci saranno altre persone preoccupanti come me, dei peer review che mi hanno approvato quella cosa che in inglese ormai sta facendo il giro del mondo e insomma comunque diciamo che spero prima o poi che si riesca ad insegnare nuovamente sia la storia che la geografia che ormai è negletta completamente, come tra le funzioni essenziali di una scuola primaria non ci debbano essere sapere dove siamo e come è fatto il mondo in cui viviamo. Togliamo questo e che rimane? Rimane cosa? Nulla. E praticamente è un po' quello che purtroppo un certo andazzo, tutt'altro che lieve, che lieto secondo me, ha fatto sì che il mondo di adesso, tutta la terza elementare viene utilizzata, stavo per dire sprecata, raccontando un'improbabile preistoria che non ha nulla a che vedere con il mondo megalitico. ditemi voi, il mondo megalitico dove tra l'altro adesso per esempio magari se abbiamo ancora un po' di tempo vi racconterò una cosa molto carina sulle colonne d'Ercole, perché lo ha sempre lo stesso Platone che è un grande, mi ha permesso di capire dove stavano queste famose colonne d'Ercole. Dove stavano? Cambiamo discorso perché andiamo su acque meno tormentate di quelle di Capo Orna forse, no? Dove si può cadere male. Allora, prima di tutto le colonne d'Ercole o di Eracle in greco, dice Platone quando ne parla a proposito proprio dell'isola di Atlantide, dà un'indicazione che secondo il professore Enrico Turolla, che è stato un grande grecista del Novecento, purtroppo non c'è più adesso, secondo il professor Turolla dimostra che Platone aveva ragione, contrariamente a quello che pensavano Aristotele e tanti altri. Ma se il povero Aristotele aveva ragione a sua volta a dire che Platone diceva delle follie quando parlava di Atlantide, Turolla ha ragione anche lui perché Turolla esamina un piccolissimo verso, una piccolissima frase da Altimio di Platone, in cui dice che al di là dell'oceano, proprio quando parla delle colonne d'Ercole, c'è un continente che circonda l'oceano da tutte le parti e che si può chiamare certamente, assolutamente e con assoluta certezza un continente. Cioè il continente che circonda l'oceano dall'altra parte dell'oceano, cos'è? L'America. Nel V IV secolo a.C. il buon Aristotele aveva ragione a pensare che Platone meritasse un trattamento sanitario obbligatorio perché diceva follie. Noi dal 1492 invece siamo autorizzati a credere, come credeva il Turolla, che uno come Platone, che usa tre avverbi consecutivi assolutamente, certamente, certissimamente, di cui il terzo al superlativo, per giurare sulla sua testa, che era vero che c'era un continente al di là dell'oceano che circonda l'oceano e tutto il resto, evidentemente lui aveva delle fonti ben importanti e bene informate. E a questo punto, dato che proprio lì parla di colonne d'Ercole, vediamo cosa dice. Dice che c'è un porto dallo stretto imbocco da cui le navi di allora partivano per andare verso questo continente oltremare, cioè andavano verso l'America. Qui stiamo parlando sempre dell'età megalitica in cui un clima migliore da quello da adesso era tra l'altro più favorevole e non solo per la rotta artica per navigare. Perciò era più facile viaggiare e andare dall'altra parte. Ma dov'è il porto dallo stretto imbocco di cui parla Platone? Gibilterra, per tutto non è un porto e poi nel punto più stretto è larga 14 chilometri, per cui mi sembra strano che sia un porto dallo stretto imbocco Gibilterra. Non c'entra niente. Invece il porto dallo stretto imbocco è quello che si trova al centro della più grande concentrazione di megaliti del mondo, Carnac. Vicino Carnac, dove ci sono una quantità di megaliti impressionanti e qui dove praticamente i misteri della civiltà megalitica in parte è quello, ma ci sono tante altre cose. Carnac sta vicino al golfo del Morbihan, un golfo francese dove c'è il piccolo mare e poi il grande mare in lingua gaelica, dove c'è la città di Vann, era in realtà la zona dell'antica Vandea in qualche modo. La cosa più interessante è che tra i tanti megaliti che si trovano lì, proprio l'uscita dal porto, c'è un grande megalite che sta per terra, diviso in quattro pezzi, le Grand Menhir Brise d'Ergra, Ergra è il nome di quel Grand Menhir spezzato di Ergra, è il più grande megalite del mondo. Quando era eretto era alto 20 metri e pesava 300 tonnellate. fino a qui ancora le colonne d'Ercole non le abbiamo ancora viste bene, però recentemente gli archeologi si sono accorti che subito dietro questo grande megalite ce n'erano altri 18, tutti in fila e adesso non ce n'è più nessuno. I 19 Menhir con in testa il Grand Menhir del Gra, ma erano tutti enormi, erano allineati vicino all'uscita dal porto. Eccole le colonne di Eracle, Eracle e Ergra, praticamente è rimasto addirittura il nome. Erano le colonne di Ercole che i marinai vedevano sfilare all'uscita del porto dallo stretto imbocco, come dice Platone, prima di andare verso il continente oltre mare. E in effetti, che questa sia oltretutto la rotta più logica per andare dall'altra parte dell'oceano, si vede dal fatto che un po' di anni fa c'è stato un avventuroso francese che ha fatto una cosa che io non farei mai. È partito dal Massachusetts per andare a farsi a nuoto il percorso della traversata dell'Atlantico, beato lui. Di giorno nuotava come un pazzo, la sera si ricoverava nella sua nave appoggio e poi ricominciava il giorno dopo. Ci ha messo alcuni mesi, beato lui che ce l'ha fatta, però lui partendo dal Massachusetts, dove è arrivato? Proprio nella zona del Morbian, perciò evidentemente le correnti portano da quella parte. Ma a questo punto qualcuno mi potrebbe dire, scusa, ma come fai a dire una cosa del genere? Che ci andavano a fare questi antenati degli Achei e di tutti gli altri, ammesso che esistessero, quelli di Atlantide dall'altra parte dell'oceano? Una delle ragioni è una teoria interessantissima che fino adesso è stata scollegata da tutto questo discorso, ma che se la colleghiamo è una teoria di americani, vedete che torna tutto, perché? Sul lago superiore c'è un'isola americana, però situata davanti al Canada, che ha un nome francese, perché una volta apparteneva ai francesi, l'Ile Royale, scritto Isle Royale con la Ypsilon, la trovate subito su internet, l'Isle Royale, l'Ile Royale, che ha di caratteristico? Ci sono enormi giacimenti di rame, quasi puro e gli archeologici sono accorti che ci sono delle miniere di rame, da cui alcuni hanno calcolato che sono state estratte un milione di tonnellate di minerale, tra cui poi veniva preso il rame, risalenti a 5 o 6 mila anni fa, ma hanno anche calcolato che la quantità di rame necessaria a fare il bronzo, la lega che poi si facevano le armi e gli utensili, in America era molto superiore, questa quantità di rame estratta, a quella che è servita ai nativi americani di allora per la loro età del bronzo, invece qualcuno ha calcolato che le miniere di rame da questa parte dell'oceano non sarebbero bastate a coprire il fabbisogno dell'età del bronzo europea. Eh sì. Morale, c'era un import-export di rame che andava, partiva dal Golfo del Morbian, si facevano tutta la traversata atlantica, arrivavano al Quebec, al Golfo del Quebec, prendevano il fiume San Lorenzo che sbocca lì e che è lo scolmatore dei grandi laghi americani, risalivano il San Lorenzo e arrivavano lì alla mitica isola del lago superiore dove c'è il rame. E ne volete la prova? La trovate in Plutarco, perché Plutarco in una sua opera, il De face quei norve lune apparet, parla della mitica età di Crono e di Eracle che andavano lì, andavano in un mondo dove la descrizione che lui fa di quello che ho detto, cioè del Golfo del San Lorenzo e del fiume San Lorenzo corrisponde perfettamente al punto che lui dice che l'imbocco di questo Golfo al di là dell'oceano, nel continente al di là dell'oceano, lo dice lui, non lo dico io, lo dice Plutarco, era la stessa latitudine dello sbocco del Volga. Ora, il Volga sul Mar Caspio sbocca a 47 gradi di latitudine che sono esattamente 47 gradi di latitudine dell'imbocco del Quebec, perciò gli antichi la sapevano lunga. Eh sì, ecco. Eh sì, eh sì. E per tutti quanti... Vi voglio dire un'ultima cosa di Plutarco, il quale dice, sempre in questo dialogo, che la distanza minima dalla Terra alla Luna è 56 volte il raggio della Terra. Se voi prendete il raggio della Terra, mi pare sono 6.741 km, sta su internet, lo moltiplicate per 56, trovate 357.000 km che per una parte su 1.000 corrisponde ai 356.000 rotti chilometri della distanza Terra-Luna. Per cui vedete che questi nostri antenati primitivi e forse il bacio se la cavavano bene. Molto, molto meglio di noi direi anche per certe cose. Ingegnere, grazie di questo viaggio fantastico che ci ha fatto fare attraverso la storia antica. Eh speriamo di ritrovarci prestissimo. Ricordo i segreti di Omero nel Baltico, il mistero della civiltà megalitica, quindi naturalmente sono libri eh che spiegano tantissimo di quello che eravamo molti secoli fa. Grazie all'ingegner Vinci per essere stato con me e buona giornata. Grazie a lei e a tutti voi. Buona serata, buona giornata. Se ti piace il nostro progetto culturale sostieni con una donazione Fabrica della Comunicazione, informazione differente. Iscriviti al canale YouTube e alla newsletter per non perderti gli aggiornamenti. Segui tutte le interviste sul sito fabbricadelacomunicazione.it anche su Telegram e sui principali social ed in podcast su Spotify. Insieme possiamo costruire un mondo migliore. Cos'è la comunicazione e quante sfaccettature ha? Quanto di ciò che viene trasmesso dai media è verità e quanto mistificazione. Quanto nell'informazione è autentico giornalismo. Fabrica della Comunicazione, il linguaggio dei media. Per scoprire la struttura e i meccanismi di radio, tv e web. Apprendere i segreti del parlare in pubblico, relazionarsi con gli altri in modo corretto e riuscire a capirsi al di là delle parole. Fabrica della Comunicazione, il linguaggio dei media. Il libro di Beatrice Silenzi. Disponibile in tutte le librerie, store online e anche in formato ebook.